Il nostro sforzo è quello di restare allumorati a Lui, perché ogni giorno possiate godere della sua forza e della sua grazia per trasmettere al mondo questa forza e questa grazia, perché il mondo può sentire strano, non si parla tanto di amore, eppure oggi in modo particolare di amore. Sapete perché? Perché galopta l'agonismo, perché galopta l'individualismo, perché diciamo di amare, ma poi alla fine guardiamo il nostro interesse. È vero, è vero quanto dirà anche questa tentazione di allontanamento. Andiamo tanto di amore, ma poi all'altro concreto ci accorgiamo che in effetti siamo difettosi. Allora ammoliamoci a Dio. Da oggi ho fatto questo nostro impegno in particolare. Grazie a tutti. Da oggi ho fatto questo nostro impegno in particolare. Restate a noi. ammoliamoci a Dio, per non dirvi di Lui e offrire al mondo questa testimonianza. Ho incontrato in quella con te l'amore di Dio. È vero questo, perché il Signore è veramente incredibile. andiamoci a Dio. I uniqueness. Grazie.